Perché non tutte le licenze open che troviamo in circolazione sono applicabili agli open data, cioè funzionano bene sulle banche dati? Allora purtroppo deriva da un diritto particolare che si chiama diritto sui generis, è proprio il suo nome, sui generis proprio perché era davvero molto originale e molto particolare rispetto a tanti altri diritti che il diritto d'autore proprietà elettorale avevano partorito negli anni precedenti, che nasce da una direttiva europea, quindi è un diritto che esiste solamente nei paesi dell'Unione Europea e funziona in modo un po' particolare perché a differenza del copyright classico o dei diritti connessi che guardano principalmente l'attività di copia, di creazione di copie, il diritto sui generis si occupa di estrazione e riuso di parti sostanziali di banche dati, quindi è un diritto pensato espressamente per le banche dati e per le banche dati che non hanno un carattere creativo, cioè quelle banche dati che per i criteri con cui i dati sono organizzati non possono essere considerate creative, nel senso che il criterio è un criterio necessitato, un criterio ad esempio alfabetico, numerico, che è il caso più frequente nel mondo informatico, nel senso che tutti i dataset che scarichiamo spesso sono delle tabelle a doppia entrata con un ordine alfabetico, un ordine numerico, dal più grande al più piccolo, dal più piccolo al più grande, ok? Quindi situazioni in cui non c'è una vera creatività nel disporre i dati, quindi quella banca dati non potrebbe essere tutelata dal diritto d'autore perché manca la creatività, manca il requisito fondante del diritto d'autore. Allora il legislatore europeo negli anni 90 ha escogitato un diritto ad hoc appunto chiamato sui generis per le banche dati non creative, solo che questo diritto, ripeto, non copre la coppia della banca dati, ma copre l'estrazione di dati da una banca dati e questo cambia non poco, ok? Senza entrare troppo nel merito questo però si porta dietro un altro problema che una licenza d'uso deve essere scritta in un modo tale da considerare correttamente questo specifico diritto che appunto ha un meccanismo di funzionamento molto molto diverso. Ed è quello che è successo con le creative commons, purtroppo nel diciamo nei primi anni di vita delle creative commons, primo decennio di vita delle creative commons, quindi sono stati tanti anni, abbiamo trovato delle licenze che non consideravano questo diritto per un banale motivo, le licenze creative commons erano state scritte in un contesto americano, statunitense, mondo in cui il diritto sui generis non esiste semplicemente, loro hanno diverso un altro modo di tutelare le banche dati e quindi ci si interrogava se le licenze creative commons applicate alle banche dati avrebbero fatto il loro lavoro correttamente, cioè avrebbero davvero garantito la creazione di open data. Purtroppo ecco dopo vari studi e approfondimenti ci si è accorti che sarebbe stato meglio mettere le mani sulle creative commons per aggiornarle e diciamo renderle adeguate anche al contesto europeo, anche a un mondo in cui esiste un diritto che invece in America non è stato considerato. Ecco che siamo arrivati alle licenze in versione 4.0 che è la versione che attualmente è ancora più più aggiornata, le 4.0 licenziano correttamente anche il diritto sui generis, quindi state attenti, cioè non tutte le creative commons che trovate ma anche altre licenze, la GPL che è la licenza General Public License, una licenza specificamente pensata per il mondo software quindi funziona male anche su altri tipi di contenuti quindi non la vedo ben applicata a un brano musicale o a un testo letterario anche se qualcuno ci ha provato quindi con diciamo la manualistica tecnico informatica nei primi anni e quella è una licenza pensata apposta per il software, ha delle clausole appositamente pensate per il software, ok? Le creative commons quando sono nate nei primi anni 2000 volevano essere neutrali, direi essere utilizzate per qualsiasi tipo di opera creativa escludendo il software perché appunto per il motivo che abbiamo detto prima delle esigenze un po' particolari però purtroppo sulle banche dati avevano questo limite, questo buco. Ci hanno poi messo una toppa diciamo con le licenze 4.0 però ecco state attenti nel senso che può essere che troviate in giro dei dataset che sono con delle licenze creative commons vecchie e non sono mai stati poi aggiornati alla licenza nuova, la licenza era più recente e quindi lì potrebbe esserci un problema di licensing dello specifico diritto, quello di diritto sui generis che vi ho spiegato prima. Un'altra licenza che invece funziona molto bene sul diritto sui generis perché è stata scritta da un team di giuristi europeo e che è stata pensata proprio per un progetto di diffusione di dati in europa è la odbl open database license una licenza che la conosceranno tutti coloro che frequentano il sito openstreetmap il progetto openstreetmap e quella funziona bene con con il diritto sui generis perché appunto è stata scritta e creata apposta per per il contesto europeo. Altre licenze adesso nel mondo open data non non vorrei citarne altre beh in italia abbiamo la odl vi raccomando solamente la licenza in versione 2.0 anche se io eviterei in generale visto che adesso le creative commons si sono aggiornate eviterei di usare una licenza solo italiana e quindi la citiamo giusto come come caso di studio e poi ci sono altre licenze nazionali appunto francese inglese che hanno cercato appunto di di mettere una top però ripeto adesso abbiamo le creative commons aggiornate funzionano perfettamente con il diritto sui generis quindi basta che siano in versione 4.0 e le creative commons sono perfette per licenziare il diritto sui generis in alternativa la odbl che la licenza del progetto openstreetmap grazie a tutti